No, Cristiano, non la devi passare quella palla, la devi tirare! Per cortesia. Papà, fai parlare il mister? Il mister? Il mister non capisce niente. Così, deciso, deciso! Oh, ma mio figlio poteva roppersi una gamba! Eh, signora, purtroppo può succedere in questo sport. Questo è matto. E se no, fategli fare ginnastica ritmica.